Dai progetti si passa ai fatti in casa San Cataldese, raggiunta un'intesa di massima con Lirio Torregrossa per l'affidamento dell'incarico di responsabile dell'area tecnica. Torregrossa, fino all'ottobre dello scorso anno in forza al club Verdi Amaranto, non ha bisogno di presentazioni, è la bandiera della San Cataldese. Con Torregrossa, San Cataldo ha assaporato la gioia della prima storica promozione nel CND. Con Torregrossa, la San Cataldese ha dato spettacolo in tutti i campi della Sicilia e non solo. Torregrossa, classe 1967, ha saputo esaltare e difendere l'orgoglio San Cataldese, anche quando nella sua carriera di calciatore ha indossato altre maglie, dall'Icata di Zeman al Torino di Radice, dal Messina di Scoglio alla Nissa di Pecoraro. La nuova San Cataldese riparte da lui e per i tifosi è una garanzia. Si lavora anche alla designazione del direttore sportivo, non si esclude la conferma di Ernesto Russello, ma sarebbero almeno tre i nomi tra i quali scegliere. Remota, invece, sembra l'ipotesi di una conferma del tecnico Giovanni Campanella. C'è stima tra le parti, ma non ci sarebbero le condizioni per la prosecuzione del rapporto. L'identikit del nuovo allenatore della San Cataldese è chiaro. Con una significativa esperienza in Serie D è soprattutto capace di lavorare con i giovani. Ci sarà quasi certamente, invece, Salvatore Di Marco, il capitano, simbolo della San Cataldese post-Torregrossa, che a 38 anni suonati può ancora interpretare il ruolo di leader del gruppo in campo e al di là del rettangolo di gioco. Intanto incombe la prima scadenza della nuova stagione. Entro i primi di luglio, infatti, dovrà essere formalizzata l'iscrizione al campionato di Serie D. Grazie a tutti.